Preghiera per la Quaresima, mercoledì 17 marzo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal Vangelo secondo Giovanni. Chi crede in Lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'Unigenito Figlio di Dio. Una vita senza amore è una vita già morta. La condanna peggiore della vita è non conoscere e sperimentare la gioia di essere amati. Gesù è vero nell'amore e non si sottrae alle grimpie del male. Ecco perché Egli ci salva nell'amore, perché solo l'amore è forte come la morte. La fede in Gesù non è solo l'antidoto alla condanna, ma l'anticamera dell'amore, la vera vicina della vita. Tutti insieme recitiamo la preghiera della settimana. Signore, spesso usiamo come Nicodemo. Veniamo a cercarti di notte, quando abbiamo paura e ci sentiamo smarriti. Rassicuraci con la Tua tenerezza di Padre e ricordaci che per ciascuno di noi c'è una promessa di eternità. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo e così in terra. Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.